che meraviglia ci ha provato, abbiamo le prove abbiamo le prove Roberta tutto a posto? ci sei ieri? Ricky ho visto che sei saltato addosso alla mia amica com'è sta cosa? cioè scusa eh, non ho capito non ti avevo mai visto reagire così allora, com'è andata? bello, gansissimo freddo? troppo bello ma neanche più di tanto cioè ne abbiamo patito talmente tanto infatti io non ci pensavo Ricky? no mamma, sono arrivato anche questa volta scusa, com'è che vi siete saltati addosso quando siete ascesi? non lo so forse ho sbagliato qualcosa io magari no, è stato carino peccato solo che io ero un po' presa da quando ho visto questa cosa per cui forse con la macchinetta ho fatto iud ok, prima avevamo sotto sì, grazie a tutti sì, grazie a tutti grazie a tutti